Il Frosinone quest'oggi è tornato al lavoro in vista della trasferta di Pagani. Stellone e i suoi ragazzi vogliono giocarsi un posto nei playoff fino all'ultima giornata di un campionato che ha visto il Frosinone assoluto protagonista sul piano del gioco e non solo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!